Vediamo che cosa succede nel periodo medievale. Nel periodo medievale ci sono alcune differenze fondamentali. In generale si perde la cultura classica, cioè quello che nel periodo classico era considerato importante e fondamentale anche a livello architettonico, come la simmetria, la regolarità delle forme in architettura, l'utilizzo dell'ordine architettonico, durante il periodo medievale si perde. E questo è importante perché anche questo si riflette nella città, quindi la regolarità della città diventa un'opzione non più importante. Consideriamo anche che il periodo medievale è un periodo estremamente lungo, un periodo che convenzionalmente noi sappiamo durare circa mille anni, dalla fine dell'impero romano convenzionalmente alla scoperta dell'America. Quindi sono mille anni che sono tantissimi, per cui si era proprio persa la memoria di quello che nel periodo classico, nel periodo romano e nel periodo greco, era stato fatto. Chiaramente, in riferimento al discorso precedente, le esigenze di difesa diventano importanti, perché città che sorgevano in pianura erano facilmente attaccabili, la situazione politica era una situazione molto frammentata, per cui non c'erano grandi imperi, c'era bisogno di difendersi. Una città pianeggiante era difficilmente difendibile, per cui si vanno a realizzare e a costruire molte città arroccate, in posizioni strategicamente più convenienti. Città tipo la città di Aosta, in questo periodo, perdono moltissimi abitanti, intere parti della città vengono abbandonate, proprio perché, innanzitutto, la popolazione era anche diminuita, ma in ogni caso c'era l'esigenza di andare a vivere in posti, diciamo, più sicuri. Quindi le città diventano città arroccate, e chiaramente, essendo arroccate, diventano pure irregolari. L'irregolarità dipende sia da questo elemento che anche dal fatto che non c'è più una cultura classica che impone, tra virgolette, una regolarità delle forme. Vediamo alcune immagini. Questa è un'immagine di una classica città arroccata, con una cinta muraria intorno, e qui vediamo un disegno che ricalca uno schema analogo. Vediamo come i due punti, i due fuochi centrali di questa città medievale sono, di fatto, il castello e la cattedrale, che indicano un po' il potere intorno al quale sorge tutta la città circondata da delle mura. Bene, vediamo invece che succede nel Rinascimento, nel 1400. Nel 1400 c'è la riscoperta del classico, quindi anche dal punto di vista urbanistico si ricerca una forma di città classica. Quindi ci sono una serie di esperimenti, diciamo così, che portano alla costruzione di città completamente nuove, tipo Palmanova. Questo viene spesso definito come un concetto, un pensiero utopico, nel senso che realizzare delle città ex novo, perfettamente simmetriche, diventa una cosa difficilmente realizzabile, perché le esigenze in una città sono differenti, non è come in un edificio, dove entra in gioco magari una sola persona, o al massimo poche persone. Nel caso di una città, le persone sono tantissime, non è possibile, diciamo così, inquadrare e controllare le esigenze di tutti. Il passaggio successivo sarà, quindi, di abbandonare l'idea di realizzare delle città ex novo, perfettamente classiche, con un disegno unitario, e cercare di riqualificare le città esistenti. Un esempio è quello che fece Sisto V a Roma, dove realizzando, adesso lo vedremo nell'immagine, una serie di obelischi riuscirà a riqualificare la città. Questo che vediamo è il disegno di Palmanova, che vedete con una forma estremamente simmetrica, precisa, dove tutto è perfettamente progettato e regolato, però capite pure voi che diventa difficile che chi abita in una, la prima casa a sinistra, vicino alle mura, debba avere esattamente le stesse esigenze di abitare nella prima casa a destra. Infatti, come possiamo vedere, questo è un'immagine di Palmanova recente, è chiaro che la forma in linea di massima si vede, però questa perfetta simmetria prevista nel disegno originale non è stata realizzata in modo pieno. Invece, per quello che riguarda la riqualificazione di Sisto V, Sisto V a Roma, vediamo in questa stampa antica, per esempio, collocherà una serie di obelischi che diventano dei punti focali della città, che quindi collegheranno i punti principali della città con degli assi di riferimento. Un esempio è quello che è stato costruito a Piazza del Popolo a Roma, un obelisco centrale visibile da tutte e tre le vie, via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta. Un altro esempio è l'obelisco che è stato realizzato a Piazza San Giovanni. Allora, è chiaro che il concetto quindi quale sarà? Non tanto di rifondare una città nuova, ma di riqualificare la città esistente, che magari nel Medioevo si era andata un pochino frammentando per una serie di motivi, riqualificandola, creando degli assi viari importanti e collocando nei punti focali della città degli elementi, in questo caso gli obelischi, che possono fare la ricuscitura di tutto il sistema urbano. Vediamo cosa succede invece nel 600 e nel 700, che è nel periodo, diciamo, del barocco. Allora, sulla scorta di quello che Sisto Quinto aveva già sperimentato, si cerca di riqualificare le città esistenti, quindi di progettare alcuni elementi importanti che possano riqualificare la città. Chiaramente una caratteristica del barocco, che è quella come si studia in tutte le discipline, quella di suscitare lo stupore e la meraviglia, si ricercano effetti scenografici, quindi sistemazioni di alcuni punti importanti della città ricercando effetti scenografici. Abbiamo alcuni esempi eclatanti, soprattutto a Roma, che sono l'esempio di Piazza di Spagna, l'esempio di Piazza San Pietro, sempre a Roma. Li vediamo adesso nelle immagini. Questo è l'esempio di Piazza San Pietro. Viene costruita questa grande piazza per delle esigenze ben precise, ma anche per riqualificare l'ambiente. Chiaramente questa è una sistemazione scenografica. L'effetto dello stupore e della meraviglia, penso che ognuno di noi, quando entra a Piazza San Pietro, soprattutto quando entra per la prima volta, sono abbastanza evidenti, perché c'è proprio questo grande effetto scenografico che valorizza, questa piazza è stata progettata da Bernini, valorizza molto la basilica esistente, mettendo in risalto la cupola e quant'altro. Questo lo possiamo vedere anche in una vista dall'altra. Questo aveva anche un significato simbolico, questi due colonnati rappresentavano anche le braccia della chiesa che accoglieva i fedeli. Ecco, è questa impianta. Questa qui invece è l'immagine della Piazza di Spagna, quindi questa grande scalinata di Trinità dei Monti che andava a risolvere un problema esistente che era quello del dislivello tra la piazza e la zona retrostante e viene questo risolto in modo stupendo con questa grande scalinata scenografica, molti si fanno oggi spesso anche delle sfilate di moda perché qualsiasi scenografia uno può inventare difficilmente può raggiungere questi livelli, quindi già da via del corso si vede questa magnifica scalinata che risolve questo problema del dislivello con sotto la fontana della barcaccia, come viene detta, che possiamo vedere qui. Questi sono i due dei tanti esempi che sono stati realizzati nel barocco in questo periodo, cioè i punti importanti della città oppure i punti non risolti della città vengono risolti piuttosto che cercando soluzioni di città nuove ma riqualificando l'esistente risolvendo in modo scenografico alcuni punti e alcuni nodi non risolti e questo è perfettamente riuscito. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione e alla prossima occasione.